Io penso che volevamo vincere questa partita, ci dispiace uscire solo con un punto, ma va bene, poi alla fine è andata così, è stata una partita tosta, dura e almeno ci portiamo un pareggio a casa. È una Roma più forte o più debole rispetto a quella che ha affrontato l'ultima volta? Io l'ultima volta non c'ero, la Roma è sempre una buona squadra, una grande società, è sempre dura e difficile giocare contro di loro, sono sempre una buona squadra. Adesso sei trovato in continuità anche in zona gol oltre che di prestazioni, come ti senti? Mi sento bene, fiducioso, mi piace molto fare gol, sto bene, mi sento bene, mi sento che posso dare tante cose alla squadra, sto bene. Sono state tante polemiche per quell'episodio nel primo tempo sul rigore non dato alla Roma, qual è stata la sensazione dal campo? Non l'ho vista, io ero un po' lontano lì e non ho guardato bene, ti dico la verità, non l'ho vista neanche in tv ancora, poi vedremo, ma non l'ho vista, neanche l'ho vista. Mi ho spiegato io, Skriniar, che cosa vi ha detto? Cioè, rigore o no? No, non lo so, non ho parlato neanche con lui di questa cosa, non lo so, poi io lo chiedo in pullman. Pensi che la vostra corsa in campionato ad oggi sia solo contro il Napoli o pensate di racciuffare ancora l'Ajulano? Noi non pensiamo a nessuna squadra, nel Napoli, nella Juve, pensiamo solo all'Inter, pensiamo a noi e tutte le partite è un mondo, proveremo a vincerle tutte e poi quello che deve succedere, succederà.